ciao a tutti i ragazzi da nicola castiglione dalla selezione nazionale piloti dal maioncino rosso e benvenuti a una nuova puntata di racing time oggi vedremo tante cose che riguardano le vetture già presenti ai box perché di solito la passeggiatina per i box viene fatta di giovedì ma sto giro qua dovete considerare che si corre di sabato e non di domenica quindi tutto viene anticipato di un giorno e poi c'è questo mistero incredibile che riguarda horner che secondo me si sta sciogliendo questo mistero già stasera sapremo qualcosina di più anzi se faccio 2 più 2 mi sa che fa proprio 4 comunque parleremo di tecnica parleremo di horner parleremo di ferrari di nuove indicazioni non regole o perché no potremmo pure chiamarle regole comportamentali date ai piloti per questo gran premio e di tanto altro dopo la sigla sigla ragazzi dunque iniziamo col caso horner perché me lo state chiedendo tutti e onestamente me lo sto chiedendo pure io allora diamoci tutti assieme una risposta dunque ieri è stata presa una decisione ok però non è stato emesso alcun comunicato ora io dico usando così la logica non ho alcun tipo di informazione in merito anche perché non ho come dire contatti di quelli giusti da parte di quel team in quella direzione però usiamo facciamo un ragionamento tutti insieme usiamo la logica se ieri hanno comunicato e cioè hanno comunicato hanno deciso il futuro di horner che senso ha oggi farlo partire per la volta del bahrain e soprattutto su un aereo che ha fatto scalo in austria e gli ha dato un passaggio a elmuth marco ora non ha assolutamente senso se tu lo vuoi esonerare se tu lo vuoi allontanare dal team vero è che non ha preso parte alla conferenza stampa dedicata ai team principal ed è la prima volta dopo i dieci anni però e che che il team campione del mondo non presenta il proprio team principal alla conferenza stampa però è anche vero ragazzi che ieri andava appunto deciso il destino di horner quindi non si faceva a tempo oggi invece è venuto fuori che poi in una delle conferenze stampa post gp lui sarà presente per carità si può anche andare a cambiare questo programma si tratta di comunicazioni standardizzate però vi voglio dire ragazzi qualcosa mi sa che non torna mi sa che i thailandesi ovvero coloro i quali detengono la maggioranza delle azioni del team della proprietà del team hanno come dire deciso per il loro pupillo perché horner è molto vicino alla proprietà thailandese quindi alla parte thailandese della red bull questa è una cosa veramente molto molto singolare comunque in serata noi faremo la puntata dopo questa attesa comunicazione che dovrebbe arrivare più o meno per le 20 più o meno ma può essere pure che venga anticipata anche perché non ha senso che dopo che formula 1 ford tutto il mondo ha chiesto chiarezza in tal senso che horner giri ancora in borghese quindi io credo che in serata arriverà una comunicazione ufficiale e penso utilizzando a poi per carità mi hanno stupito talmente tante di quelle volte in formula 1 soprattutto dal lato red bull che non mi stupirei neanche sto giro qua però ripeto non ha senso far andare horner fino in bahrain per di più assieme a helmut marco e poi fare un comunicato dove viene allontanato non mi torna più la cosa quindi secondo me ancora una volta il buon si fa per dire christian horner l'ha fatta franca quindi avranno trovato un accordo che avrà soddisfatto moltissimo le parti in causa ripeto ho questo sentore è più che altro una sensazione a pelle perché non mi tornano un po di cose a meno che non vogliono fare un qualcosa di eclatante facendo uscire christian horner in maniera molto elegante con un suo comunicato davanti alla formula 1 intera non ne ho idea non ne ho idea però comunque non non mi tornano più tante cose vedremo come andrà a finire questa sera parliamo invece di corse parliamo di tecnica parliamo di auto da corsa che è meglio e facciamoci una passeggiatina ai box iniziamo a vedere le prime immagini qui la ferrari con questa ala anteriore molto discendente verso l'emplate con un andamento molto costante questo è sintomo di una certa ritrovata se volete pulizia aerodinamica poi facciamo un confronto da subito con red bull perché anzi più che farlo tra ferrari e red bull voglio farlo tra la red bull e le vetture che vi faccio vedere subito dopo allora tiriamo fuori la manina cosa vediamo il solito schema sospensivo vediamo la solita chia qui sotto e vediamo l'apertura della bocca delle pance che vista da questa inquadratura si è piccola ma poi non è così piccola perché se andiamo a guardare quella dell'aston martin ragazzi ci rendiamo conto che qui si vede bene da questo lato no che anche aston martin ha una bocca un po più larga ma molto molto stretta se la guardiamo dalla sezione frontale e poi ci accorgiamo oltre al gran lavoro che hanno fatto per quel che riguarda le sospensioni che ripeto come potete notare da ciò che vi indica la manina sono rimaste push rod notiamo che l'aston martin nonostante ci sia un tecnico ex red bull non ha la chia nella sezione cioè qui sotto il muso cioè sotto le gambe del pilota sopra il t3 e proprio il t3 ci indica che c'è un doppio deviatore di flusso quindi abbiamo un doppio t3 qui con i due deviatori vedete molto molto vicini tra di loro perché di solito il secondo si trova un po più in alto invece qui li hanno praticamente quasi attaccati andiamo a dare un'occhia alta sempre per quel che riguarda la sezione frontale alla mclaren altra vettura che si è ispirata tantissimo alla red bull di cosa ci accorgiamo che anche qui non c'è la chia perlomeno non sembra e poi che la filosofia sposata per quel che riguarda il raffreddamento quindi la bocca d'ingresso delle pance è totalmente diversa alle tre vetture precedenti che vi ho fatto vedere qui ovviamente notiamo che lo schema sospensivo invece è pull rod quindi l'opposto di quello dell'aston martin poi diamo un'occhiata pure alle ali tiriamo fuori la nostra manina e andiamo a vedere qui abbiamo la red bull sempre un secondo elemento della lettore posteriore molto 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 pronunciato e poi abbiamo un cucchiaio simile a quello dell'anno scorso non possiamo dire altrettanto per ferrari che ha un'ala principale quindi il main plane dell'ala posteriore con meno cucchiaio quindi un po più largo un po più esteso classica è l'ala posteriore che costituisce il secondo elemento anche qui abbiamo decisamente una buona ala posteriore quindi quando in teoria la ferrari apre il drs dovrebbe avere un bel vantaggio comunque in generale anche per mclaren e mercedes notiamo dei carichi posteriori a livello aerodinamico abbastanza elevati andiamo a dare uno sguardo tirando fuori la manina anche agli altre case dove troviamo un aston martin con il secondo elemento dell'ala posteriore abbastanza pronunciato così come la williams l'alpine che è quella che forse ha più ala di queste quattro e qui vediamo l'alfa tauri scusatemi la racing bull o banco ma chiamatela come volete infine concludiamo con la ass e la sauber futura audi anche in ass abbiamo tanta tanta ala al posteriore tra l'altro in ass l'avrete sicuramente letto a destra e a manca hanno lavorato tantissimo il team che ha fatto più chilometri per quel che riguarda il consumo di pneumatici con ottimi risultati loro dicono che quello che passavano l'anno scorso è solo un lontano ricordo dove invece devono ancora fare tanto lavoro e la conoscenza della sospensione posteriore però questa è una cosa che riguarda anche casa ferrari in quanto la sospensione praticamente è identica andiamo avanti con la nostra passeggiatina i box e qui vediamo la carenatura dell'aston martin guardate che differenza con l'anno scorso l'anno scorso lo scivolo iniziava molto prima adesso invece scende dopo e sembra quasi che scenda ma di questo non possiamo essere sicuro sicuri perché ci sono anche i giochi di luce in maniera molto più ripida qui lo scavo sembra più profondo ma potrebbe essere anche il bordo laterale un po più alto poi avevamo parlato in apertura di modifiche a livello di regole da applicare durante non l'avevo detto questo le qualifiche ed è una cosa buona questa perché nils wittich il direttore di gara della formula 1 ha dato delle nuove indicazioni per quel che riguarda le qualifiche il giro veloce e l'andatura in generale da tenere durante il giro di riscaldamento gomme il giro di lancio allora innanzitutto c'è un tempo minimo però questo si è visto l'anno scorso che era facilmente aggirabile per quale motivo perché il pilota poteva andare pianissimo all'inizio ma proprio tanto tanto piano e poi andare un po più forte quindi costituiva un pericolo in tutti quei settori dove andava piano allora da quest'anno c'è un tempo minimo da andare a osservare e quindi da tenere per ogni microsettore ora se vi state chiedendo ma che cosa sono questi microsettori ne parliamo sempre ma non sappiamo mai effettivamente a quale pezzo del circuito ci si riferisca quanto è lungo ebbene andiamo a vedere non c'è problema voi chiedete e io rispondo allora i microsettori sono praticamente quello spazio di pista compreso tra i vari pannelli che delimita in pannelli luminosi qui per esempio bandiera verde che sono disposti lungo tutta la pista ebbene per ognuno di questi pezzettini di pista questa volta e i piloti lo vedono nel dashboard c'è un tempo minimo da rispettare e poi l'obbligo se arriva una vettura dietro ma non capisco perché si sia sottolineata questa cosa dovrebbe essere una cosa naturale in tutti i rettilinei di spostarsi dal lato dove non si passa di solito quindi nel caso del che ne so il rettilineo che va da curva 10 a curva 11 ci si sposta sulla sinistra perché essendo curva 10 a sinistra e curva 11 a sinistra le vetture rimangono sulla destra e poi curva 3 4 bisognerà fare molta attenzione sono praticamente quelle esse iniziali perché anche lì scusatemi bisognerà spostarsi andiamo avanti perché un'altra cosa a livello regolamentare che mi fa piacere condividere con voi è il peso minimo del pilota anche questa cosa qui ce l'abbiamo anche noi in selezionazione piloti allora qui vediamo Hamilton con Bonington che stanno andando alla pesa se ci fate caso la manina vi indica cosa il sedile di Hamilton portato da uno degli uomini della Mercedes ebbene perché si portano dietro il sedile quando si pesano perché il pilota incluso il suo sedile devono raggiungere un peso minimo di 80 kg però attenti capiamoci bene non è che se il pilota pesa 60 il sedile ne peserà 20 assolutamente no allora il pilota ha quella tara incluso il sedile quindi se per esempio pilota più sedile pesano 75 kg verrà dato l'opportunità al team di andare ad applicare 5 kg di zavorra quindi questo è il regolamento che si deve rispettare perché se prendete Yuki Tsunoda quando ci pesa con tutto il sedile 80 kg il suo sedile dovrebbe pesare qualcosa credo come 25 kg ve l'immaginate il meccanico che porta 25 kg di sedile quindi viene fatto la pesa della vettura la pesa del pilota con il sedile messo tutto assieme ovviamente questo peso del pilota viene registrato e poi ricontrollato a fine gara andiamo avanti e parliamo sì ieri vi avevo fatto vedere i cordoli che in parte non sono stati ricoperti dal cemento ora c'è un'altra novità siccome non è attesa acqua in questo weekend di gara praticamente cosa hanno fatto alcuni cordoli sono stati completamente ricoperti dal cemento in modo che non c'è più il problema che passando da monoposto li tiri su e vada a creare una notevole situazione di pericolo andiamo ancora avanti aerodinamica allora mi avete chiesto e continuate a chiedermi di fare un commento sulle immagini della red bull che durante lo shakedown tirava su tanta acqua allora in realtà io ho già tutto pronto però lo voglio fare bene quindi quel tipo di video siccome mi interessa farvi notare tante cose ma veramente soprattutto le più belle quelle lì che dici oh ma guarda qui che cosa si riesce a creare con una monoposto allora giociamoci questo argomento in un momento di calma apparente anche se non è che ce ne sarà tantissimo anche perché vorrei fare anche l'analisi della pista in realtà devo rivedere un video di due anni fa se va bene proponiamo quello se no ne proporremo una nuova quindi questo è quanto e poi un'altra cosa che voglio fare domani se ci riesco ve lo annuncio già da adesso farò una diretta nel canale di skid e in prove libere 1 però prove libere 1 diretta nel canale di skid questo niente è una cosa che voglio fare per vedere un attimino come va però non qui ma nel canale dedicato ai ragazzi e voi direte ma non ci chiami sempre ragazzi sì infatti è dedicato pure a voi andiamo avanti ragazzi allora ecco vedi voi chiamato ragazzi questi sono i commenti in pole position e del video di ieri allora vi tocca tal di grazie per la spiegazione nico allora non mancherò a ogni pole nel prossimo campionato e già ha iniziato a farle bravo poi abbiamo trk daie alessio longo f1 fan leo kebab raul soffiato e francesco zito questi più veloci nel video di ieri allora poi abbiamo 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 i commenti più di tendenza fabbio astolfi simone davide bedini giulio fornai vito cataldi che ha fatto me doppi punti per lui e spartaco nannetti grazie a tutti infine volevo chiudere questo video facendo gli auguri buon compleanno 84 anni a michael scusate a mario quest'ora speriamo non gli siano fischiate le orecchie a mario andretti che ricordo ai più giovani e campione del mondo di formula 1 nel 1978 vincitore di quattro campionati di formula indi vincitore della 500 miglia di detona nel 67 credo e infine vincitore della indy 500 del 69 ecco vi ho fatto tutte le perle vi ho detto del suo incredibile curriculum auguri a colui il quale non è bene accetto oggi in formula 1 bene questo video lo concludiamo qui spero vi sia piaciuto se così aspettiamoci questa comunicazione sorpresa a questo punto ragazzi qualunque sia la decisione della red bull comunque sarà una sorpresa perché tutti davano per spacciato horner e adesso invece inizia cioè perlomeno a me questo discorso che lui stia volando in bahrain non mi quadra per niente a meno che non vogliono fargli fare un'uscita in grande stile con tanto di abbraccio da parte del team tutto è possibile mi stupirei perché in red bull non è che sono famosissimi per lo stile vedremo vedremo un attimino che cosa ci riserverà il futuro tra pochissime ore per quel che riguarda il caso horner poi vorrei mandare un grande abbraccio adesso non ho neanche il telefono e non ho modo di vederlo così a no ce l'ho il modo di vederlo così al volo quindi aspettate un attimino perché ci tengo tantissimo a questa cosa qui e quindi datemi un secondo è che si sta aprendo internet il bello della diretta ogni tanto ci vuole che ci vuole anche questo però vorrei dare un grande grande abbraccio spero salti fuori il commento eccolo quasi l'ho trovato allora al papà di guglielmo si chiama gianfranco ecco gli mando un grande abbraccio veramente di vero cuore bene ok per questo video è tutto spero vi sia piaciuto se così lasciate un like un commento iscrivetevi al canale attivando la campanellina io vi saluto e ci vediamo prestissimo perché oramai siamo ritorno a vivere su youtube ecco siamo in atmosfera da gran break un bacio ciao raga ciao